è arrivata l'app di algero channel la web social tv puoi vedere l'alghero tg express in diretta gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del tg accedi a tutte le puntate del fortunato format audaci a cuore aperto un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video foto e messaggi scaricala da google play o accedi direttamente dal web www.appalgerochannel.it algero channel web social tv oggi algero channel parla di saluto e benessere con noi pierpaolo che ci può raccontare la sua esperienza che è un'esperienza che può essere utile a tante persone per te estremizzando possiamo parlare di una vita prima e una vita dopo parlaci di del primo pierpaolo allora il primo pierpaolo è un un pierpaolo che ha vissuto una vita da obeso da grande obeso per vent'anni almeno diciamo che tutto è nato dalla diciamo dalla gioventù dove la si inizia sai quando inizia a tendere un pochettino a ingrassare eccetera eccetera però poi ovviamente anche il fatto del mangiare male eccetera quello ovviamente aiuta e alimenta l'ingrassare poi si sono scatenate varie vicissitudini durante la vita e quelle hanno fatto sì che questa obesità diventasse sempre più grave fino ad arrivare al punto di non ritorno perché poi diventa un punto di non ritorno perché poi fai del cibo ne fai una ragione di vita qualsiasi cosa la butti sul cibo e poi alla fine tu ti ritrovi a buttare giù qualsiasi cosa pur di sentirti bene e pur di trovare giovamento ecco però poi quando ti trovi anche a pensare innanzitutto la salute che poi se ne va perché nel tempo è arrivato il diabete è arrivata l'ipertensione sono arrivati i disturbi del sonno che quelli sono molto importanti tutto ciò ha influito anche oltre che non tanto nel sociale quanto nel nell'ambito lavorativo perché perché l'obesità è una malattia perché poi alla fine è una malattia dove c'è dove si riscontra tanta indiscriminazione perché uno può essere bravo nel fare il suo mestiere essere volenteroso eccetera però si ritrova con una realtà che tutti i presenti da un qualsiasi d'attore di lavoro con una stazza abbastanza importante ed è quello che la prima cosa guarda la gente il colpo d'occhio e non va a pensare quindi al resto mi sono trovato anche a dare della disponibilità per far vedere la volontà di imparare oppure di fare quella è anche gratis quindi ti sei trovato magari in situazioni dove la gente ti ha potuto anche sfruttare ecco però poi scattano tante cose la famiglia ovviamente una bambina che deve crescere la devo crescere la necessità del genitore e poi niente sono arrivati periodi dove ormai l'obesità è arrivata a tale a 197 chili dove tutti i problemi di salute sono diventati sempre più imponenti cosa che alla fine poi mi veniva problematico anche il semplicemente fare due passi e quindi avevo necessità sempre di avere la macchina sotto pronta e non riuscivo più andare a prendere mia figlia a scuola perché ormai la schiena le articolazioni erano e poi diciamo che il clou è stato a novembre del 2016 dove sono stato veramente male ho rischiato un infarto sono finito in ospedale quindi praticamente per me avevo visto la fine dei miei giorni la a quel punto ho preso in mano le redini mi sono guardato bene dentro di me ho detto ma cosa vogliamo fare vogliamo continuare vogliamo dare un futuro a questa figlia vogliamo riprenderci in mano la vita e così ho fatto avevo nel cassetto questo numero di telefono che mi aveva dato un amico una persona che aveva già fatto il percorso della chirurgia bariatrica dove avevo riscontrato anche un successo però quando si inizia a parlare di chirurgia chirurgia bariatrica non bisogna pensare che sia la mano dal cielo oppure che sia la soluzione della vita la iniziano a entrare in gioco tantissime tantissime cose tipo che adesso la prima cosa è il cambiamento della di come ci si pensa di come si affronta tutta questa cosa qua quindi ho preso contatti con il dottor marinari della clinica humanitas di rozzano che allo studio a sassari il quale mi ha dato appuntamento sono andato là ci abbiamo fatto una grandissima chiacchierata mi ha dato una serie di esami ovviamente da preparare in più anche ci è voluto anche il parere di uno psicologo perché per certi tipi di interventi quali la chirurgia bariatrica per protocollo richiedono un certificato da parte di uno psicologo anche perché questo è da dire se non ti scatta qualcosa a livello mentale se non sei convinto di farlo rimani sempre nella stessa situazione e non cambi mai certo non cambi mai ma poi oltretutto ti presenti davanti al chirurgo davanti al medico e lui se ne accorge e non ti opererà mai anche perché lui non può operare una persona che non è cosciente di quello che sta andando a fare perché poi i problemi dopo sono notevoli perché se tu non affronti psicologicamente questo percorso con determinazione sai poi che avrete cambiamenti radicali perché ho avuto dei cambiamenti radicali cioè nel senso che prima mangiavo quantità enormi di cibo adesso mi vedo a mangiare delle quantità molto molto ridotte fare cinque passi al giorno che sono fondamentali e là devo introdurre tutto ciò che sono i nutrimenti importanti quali le proteine quali carboidrati e tutto ciò che serve al corpo per poter andare avanti perché ovviamente mi sono trovato a ingurgitare calorie tipo 4.000-5.000 calorie adesso siamo forse a 1.200-1.500 però i risultati ci sono ci ho creduto sono andato fino in fondo e da febbraio del 2017 che ho iniziato il mio percorso con la prima visita ho fatto una successiva pre ricovero sempre lì a Milano dopodiché mi è arrivata la fatidica chiamata ad aprile io il 10 di aprile sono andato a Milano a Rozzano all'Humanitas per farmi operare e lì il 10 di aprile del 2017 sono rinato quindi la mia seconda vita ecco spieghiamo ai nostri telespettatori in cosa consiste in pratica l'operazione allora praticamente l'operazione viene fatta in laparoscopia in anestesia totale quindi anche quella che è una delle complicanze che si può incorrere in questo intervento perché ovviamente addormentare una persona di un peso importante ci sono dei rischi anche se la medicina adesso è andata talmente avanti che ormai ci sono dei farmaci che sono all'avanguardia e quindi sono calibrati e dosati proprio a persona ecco quindi in base a una persona come infatti durante il pre ricovero fai dei colloqui con il chirurgo e con l'anestesista il quale ti dice proprio che non devi muoverti dal peso assolutamente nel senso che non è che puoi fare la bravata in ciaio sto andando voglio andare con qualche chilo in meno oppure voglio mangiarmi le ultime cose come che sia magari l'ultima cena no uno va tranquillo e sereno continua a fare la vita che stava facendo prima fino al giorno dell'intervento sapendo e cosciente che poi dal giorno dopo l'intervento la vita ti cambia totalmente nel senso che ti trovi per cinque giorni essere alimentato solo a liquidi dopodiché una volta che tu vai a casa continua a fare una settimana di liquida e tre settimane di semi liquida fino a che poi dopo il mese inizi a introdurre i cibi solidi piano piano l'intervento in sé consiste nel fare ti fanno quattro buchi nella parte alta dell'addome e di lì poi viene fatta una resezione gastrica nel senso che la chirurgia bariatrica è fatta di tanti interventi quello che hanno fatto a me quello che è stato consigliato a me è la sleeve gastrectomy praticamente la resezione gastrica viene eliminato una gran parte del dello stomaco e quindi ti si riduce il volume e quindi anche quando tu vai a mangiare le quantità che introducevi prima non le può introdurre ne introduci molte molte meno tipo facciamo un esempio con 40 50 grammi di pasta uno è già sazio poi cosa scatta il fattore psicologico e mentale cioè tu devi sentire il nuovo senso della sazietà se prima lo sentivi con uno stomaco così adesso devi sentire con uno stomaco piccolino ovviamente è già quello quindi ritorniamo col discorso del fattore psicologico dove tu devi essere cosciente ormai che tu a vita dovrai introdurre quelle quantità ma va bene perché non è che ti preclude tutto non è che sia dieta vita o che no devi seguire un regime alimentare corretto e basta mangiare cinque volte al giorno fare i tuoi cinque pasti e uno è tranquillo e risultati si ottengono con forza di volontà sono partito da un peso di 197 kg attualmente sono 114 kg quindi sono 83 kg che ho tolto ovviamente più uno è obeso e più il dimagrimento è veloce però ci possono stare anche ci possono essere anche durante il percorso del dimagrimento degli stalli che sono fisiologici quindi uno non si deve demoralizzare non si deve buttare giù perché può succedere io ho esperienza di amici che sono sono bloccati anche due tre mesi però il chirurgo dice sempre il dottor marinari dice sempre anche se la bilancia è ferma voi usate il centimetro perché i centimetri scendono sempre ed è vero ed è vero anche perché poi io me ne sto rendendo conto adesso che è una gioia immensa ogni volta che vado a un negozio a gustarmi una cosa che sembra che sia tornato bambino quando mese per mese dovevo ricambiarmi il guardaroba e così sto facendo io sono partito da una 75 e calibrata cioè che tuttora ciò quel pantalone perché me lo voglio tenere al ricordo del del passato di quello che ero io attualmente porto una 58 che una cosa bellissima cioè e poi anche tutto bello cioè non ti sembra vero perché ti ripeto le piccole cose anche semplicemente fatti una passeggiata o anche solamente lacciarti le scarpe che prima diventava una cosa impossibile adesso diventa un gioco da ragazzi quindi io ho un percorso che consiglio a tutte quelle persone che sono in sovrappeso ma un sovrappeso grave che poi ovviamente sfociano anche con dei problemi che possono essere tanti perché l'obesità crea tanti tanti problemi quindi io do questa mia testimonianza e mi fa piacere e spero che molte persone ci pensino anche perché non è perché lo sto dicendo io o perché si vedono i risultati uno deve essere anche pronto per farlo comunque è bello sapere che ci sono delle strutture ci sono delle persone che possono aiutarci ripeto aiutarci perché questa non è la soluzione definitiva perché dobbiamo essere noi gli artefici della nostra rinascita e noi dobbiamo essere gli artefici del nostro futuro quindi se vogliamo stare bene dobbiamo farlo con la nostra testa quindi prendiamoci in mano la nostra vita e non buttiamola sul cibo perché tanto non risolviamo nulla e questo è il diciamo tutto quello che sono fino adesso ne avrò ancora la strada non è non è finita anche perché poi una volta che il percorso finisce perché diciamo che l'intervento in sé lavora da solo per almeno un annetto dopodiché c'è tutta la fase ricostruttiva perché ovviamente una persona che ha perso un peso molto importante incorre in dei problemi estetici molto evidenti tipo la pancia le gambe le braccia per le donne ovviamente anche il seno e quindi tutta roba mutuabile perché purtroppo ahimè l'obeso è una malattia l'obesità è riconosciuta come malattia quindi il servizio sanitario nazionale ci aiuta in questo quindi non abbiate paura ci sono delle piccole spese iniziali ma ne valgono della nostra vita e ne vale soprattutto la pena lo stesso per quanto riguarda la parte ricostruttiva anche quella viene affidata sempre al servizio sanitario nazionale che ci manderanno nelle strutture idonee e ci rimetteranno a posto e quindi vivremo sereni e continueremo a fare la nostra vita come dovrebbe essere e viverla al meglio Alguero Channel la televisione web social dell'Alguero ha arrivato l'applicazione di Alguero Channel la televisione web social puoi vedere in diretta il telediario express dell'Alguero Channel i contenuti extras e tutte le edizioni passate del telediario accedevi a tutti i capitoli del nostro programma d'èxit audaci a cuore aperto la nostra applicazione interactiva et permet a tutti i capitoli del nostro programma di Alguero Channel la televisione web social dell'Alguero Channel